Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.653 tamponi, 2.267 nel percorso nuove diagnosi e 1.386 nel percorso guariti. I positivi sono 653 nel percorso nuove diagnosi, 135 nella provincia di Macerata, 220 nella provincia di Ancona, 49 nella provincia di Pesaro Urbino, 92 nella provincia di Fermo, 130 in quella di Ascoli Piceno e 27 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici 87 casi rilevati, contatti in setting domestico 141 casi rilevati, contatti stretti di casi positivi 184 casi rilevati, contatti in setting lavorativo 13 casi rilevati, 9 rientri dall'estero, contatti in ambienti di vita divertimento 36 casi rilevati, contatti in setting assistenziale 9 casi rilevati, contatti in setting scolastico formativo 11 casi rilevati, screening percorso sanitario 8 i casi rilevati. Per altri 155 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.